E si è conclusa con grande successo di pubblico la prima edizione del Salone del Vino di Torino oltre 13.000 presenze nei quattro palazzi, luogo simbolo della città, Cavallerizza Reale, Palazzo Cisterna, Museo del Risorgimento e Palazzo Birago e con un programma che ha visto la realizzazione di 120 diffusi in 60 luoghi diversi della città.